Lui è Ismail, 20 anni, originario del Mali, ma parla perfettamente l'italiano. È arrivato nello Sprar di Torre Santa Susanna nell'autunno 2018 con appresso la sua macchina da cucire. La sua passione, ma oggi anche il suo lavoro, visto che dopo una fase di tirocinio è stato assunto a tempo indeterminato in una grossa sartoria di Francavilla Fontana. L'attività oggi è chiusa per via delle prescrizioni anti-Covid, ma lui ha deciso di mettere a disposizione la sua professionalità per aiutare chi ha bisogno. Così prima ha realizzato mascherine per la comunità africana, adesso le cuce per gli anziani e le persone in difficoltà, a dargli una mano anche gli altri ragazzi dello Sprar. Io penso che è una bella idea che ho pensato perché per aiutare quelli che hanno bisogno è un obbligo che dobbiamo fare, per aiutare quelli che hanno bisogno dobbiamo farlo per forza, perché è una cosa che è un bel gesto. Abbiamo chiuso il lavoro in questo momento perché con l'emergenza coronavirus non potete andare al lavoro, quindi ho deciso di fare quello che mi ha scritto una cosa per dare a quelli che hanno bisogno, per noi rimanere sempre sotto a letto. Per il suo gesto Ismail ha ricevuto i complimenti del suo datore di lavoro e l'apprezzamento della responsabile dei servizi Sprar. Ismail in questo caso ha coordinato il gruppo di tutti i ragazzi dello Sprar, del Sipro Emisa Daca, di Torre Santa Susanna, che io ringrazio.